Oggi vorrei proporvi la lettura del libro scritto da Donatella di Pietro Antonio, L'età fragile, edizioni e inaudi. Un libro molto bello che affronta un tema molto interessante che è quello della fragilità umana. La di Pietro Antonio si ispira a un fatto realmente accaduto, il delitto del morrone, avvenuto nel 1997, e costruisce una storia nella quale ci sono due giovani donne assassinate, ce n'è poi una terza che sopravvive a questa mattanza e porterà il peso di questa storia nel tempo. È una storia che si dipana pagina dopo pagina, ci sono due voci narranti che si alternano, la voce di Amanda, la giovane figlia che ritorna completamente cambiata dall'esperienza nella grande metropoli da Milano, e la voce della madre, una donna di mezza età, che ha deciso di rimanere invece al paese in Attio, dove ha aperto uno studio di fisioterapia. Le due giovani donne hanno difficoltà a parlare tra di loro, meno male che c'è il nonno, che a modo suo riesce a instaurare un rapporto senza troppa difficoltà con la giovane Amanda. Quindi un altro tema di questo libro è la difficoltà dei rapporti tra generazioni. A volte è possibile riscontrare una facilità di rapporto tra generazioni molto distanti, come nel caso raccontato nel libro, tra nipote e nonno, dove anche se c'è un mondo valoriale completamente diverso, ma nello stesso tempo è possibile trovare un contatto, perché come dice la di Pietro Antonio, nelle generazioni precedenti i giovani forse trovano delle certezze, certezze che possono anche non essere condivise, ma che comunque sono tali. C'è poi una coralità di personaggi che pagina dopo pagina, come dicevo, si vengono a palesare al lettore. Raccontando la storia di questo ricordo, di questo assassino, di queste due ragazze, è possibile affrontare anche altri temi, come quello dell'andare e del ritornare. Andare verso nuove esperienze, verso la metropoli, verso un luogo dove è possibile sicuramente avere più opportunità, fare più esperienze, ma nello stesso tempo c'è anche la volontà in alcuni casi di ritornare al paese natio, dove le opportunità sono sicuramente meno, ma dove quella competizione, quella aggressività, quella crudezza del quotidiano forse risulta essere meno evidente o perlomeno meno oppressiva. C'è poi un altro tema che è quello della natura. La natura affrontata in un modo molto differente. Negli ultimi tempi si parla tantissimo di ambiente. La di Pietrantonio ci parla di una natura bella, sì, ma anche matrigna, anche aggressiva, che impone di essere guardata, di essere gestita, per così dire, con rispetto e con attenzione. Un libro quindi ricco di tante sfumature e soprattutto, come dicevo all'inizio, un libro che ci porta a riflettere sulla fragilità umana. La di Pietrantonio giunge alla conclusione, o parte forse da questa idea fondamentale, che ogni un'opportunità ha la sua fragilità e dobbiamo esserne forse consapevoli e accettare che siamo intrisi di fragilità, ma che forse questa fragilità può anche essere un'opportunità per vivere la nostra vita in modo differente o sicuramente più intenso. Alla prossima!